Caglione, Castel Tauro, è tornata a nuova vita, ecco quali sono le novità per questo punto così bello e panoramico di Taormina? Ma intanto dopo 35 anni e 4 anni di lavori abbiamo creato all'interno del castello di Taormina, su nella rocca di Madonna della Rocca, accanto a questa chiesa fantastica, 21 punti di interesse storico. Ci sono due grotte particolari, ci sono dei pozzi, tutti i camminamenti, perché è un castello saraceno, gli arabi non facevano castelli, facevano fortezze e lì c'è una cinta muraria, dicono che la cinta muraria è più alta d'Europa, circa 5 metri, quindi chi entra al castello avrà 21 cose da vedere e potrà spaziare all'interno di questa fortezza e poi salire sopra, come è stata definita dai media nazionali, il castello dei quattro panorami, perché da un lato con un dito si tocca l'Etna, si vede, dall'altro lato si vede la Calabria e tutta la costa, dall'altro ancora c'è Montevenere insieme a Castelmola e infine uno si poggia lì sulla ringhiera della torre più alta e può guardarsi anche le rappresentazioni greche dall'alto. Ma ti faccio una domanda, io sono taorminese, ma nasceranno nuovi amori con questo panorama? Perché di solito si parlava in tempo passato che era un punto di incontro per gli innamorati. Guarda Mauro, tu hai detto una cosa esattissima, ma lo sai perché? Io non ho il privilegio di essere taorminese, ma col tempo spero di diventarlo, perché in questi giorni, noi abbiamo riaperto il 7 maggio, in questi giorni ci hanno chiamato tantissime, tantissime vending planner e circa cinque giorni fa ha chiamato una vending planner americana e ha detto, dice guardate, dice io vivo sotto l'Etna, però ci sono stati una coppia di americani che vogliono fare la promessa di matrimonio e poi la festa dentro il castello, cioè però vogliono fare la promessa di matrimonio nella torre più alta con lo sfondo dell'Etna. Dice perché, dice tanti loro parenti, ai tempi più di 35 anni fa, venivano a Tormina e si davano il primo bacio lì a Castello Tauro. Per me è stato emozionante, allora ho detto quattro anni di lavori, hanno avuto un loro perché. E quindi sì, sì, è un punto di amore e di grandi sentimenti, perché uno domina a 397 metri di altezza, domina tutta quanta, le cose più belle, Tormina, la fascia costiera, l'Etna, domina quello che c'è di più bello in Sicilia.